Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Faremo a breve un approfondimento sulla vertenza celanese perché è stato raggiunto l'accordo per lo stabilimento di Via Marconi e quindi salva l'occupazione in questo importante sito produttivo estense. Parleremo anche ovviamente di campagna vaccinale, ci sono novità importanti e parleremo anche di sport con il basket che ieri, il club Ferrara ieri è stato sconfitto a Napoli dopo una partita molto intensa che ha visto i ferraresi sfiorare la vittoria. Ma dobbiamo partire parlando di SPAL perché è arrivata la conferma degli incontri che la dirigenza Biancoazzurra e Gioia Tacopina hanno avuto in questi giorni. La società Biancoazzurra e l'ex dirigente di Roma, Bologna e Venezia hanno infatti predisposto un comunicato che inizia a fare chiarezza sulla situazione. Allora il comunicato riporta, SPAL e Tacopina comunicano che dopo lo scambio di informazioni avvenute tra le parti nelle ultime ore e in considerazione dell'apertura della proprietà all'ingresso della partecipazione societaria di nuovi soggetti, è iniziata un'analisi legata alla manifestazione di interesse dimostrata. Tale manifestazione non ha ancora condotto alla formulazione di nessuna offerta. A questo punto non resta che capire cosa maturerà nel corso dei prossimi incontri per capire appunto il futuro societario in casa SPAL. La sensazione è che possa esserci un ingresso graduale in società di Tacopina e di investitori che potrebbero affiancarlo e affiancare anche la famiglia Colombarini. Ma siamo in attesa appunto di aggiornamenti. Passiamo adesso alla campagna vaccinale perché da questa mattina si è iniziato a vaccinare anche nelle aziende, in questo caso nelle aziende agricole. Stiamo parlando di bonifiche ferraresi nel campus di Yolanda di Savoia, il campus dell'azienda agricola più grande d'Italia. È stato creato a supporto della rete nazionale un percorso dedicato alla vaccinazione con accoglienza, triage, due postazioni vaccinali e un'area osservazione. Quindi anche le aziende agricole stanno partecipando a questa campagna vaccinale, campagna che nel ferraresi ha fatto registrare alti numeri. Lunedì il record di vaccinazioni si è andati oltre le dosi giornaliere pronosticate mesi fa. Stiamo parlando dei numeri che riguardano sia la città che tutta la provincia di Ferrara. Parliamo di più di 4.200 somministrazioni. Intanto però nel bollettino coronavirus, nell'ultimo bollettino, si registra un altro decesso. La curva pandemica sul nostro territorio continua a essere in fase discendente. Siamo in attesa ovviamente del bollettino quotidiano, ma vediamo gli ultimi dati che abbiamo a disposizione. Boom di vaccinazioni nel ferrarese lunedì dove sono state somministrate 4.800 dosi di vaccini anti-covid. A incidere sicuramente anche le aperture serali partite proprio lunedì, ma è registrato un numero così alto di inoculazioni e probabilmente si sta andando oltre le previsioni che le autorità sanitarie fecero a inizio campagna di vaccinazione di massa a febbraio scorso. In totale, a lunedì, erano più di 161.000 i ferraresi che hanno ricevuto almeno una dose e quasi 97.000 i cittadini estensi immunizzati. Si registra però nel bollettino di martedì nel ferrarese un altro decesso a causa delle complicazioni apportate da covid, vittima una donna di 84 anni, 6 decessi nel resto della regione. Tornando sul territorio ferrarese, 6 nuovi positivi su 85 tamponi eseguiti, 18 nuovi guariti. Se ci spostiamo in Emilia-Romagna, sono 99 nuovi casi. Per la prima volta dal 29 settembre scorso in Emilia-Romagna si registrano meno di 100 casi di positività al coronavirus in 24 ore. Ma calano anche i ricoveri in terapia intensiva e in regione. Ci sono infatti 70 pazienti, due in meno di lunedì, mentre ce ne sono 386 negli altri reparti covid. Campagna vaccinale che in questo periodo sta vedendo il tutto esaurito agli open day. Ce n'è uno in corso. E' partito oggi un nuovo open day in provincia, negli hub della provincia di Ferrara. Continuerà fino a domenica in quattro centri vaccinali della provincia, appunto Comacchio, Argenta, Codigoro e Cento, con quasi 1500 dosi a disposizione di Johnson & Johnson. I posti sono andati esauriti in poche ore, ma sentiamo come sta funzionando. Sulla scia del successo degli open day e gli open night organizzati nei centri vaccinali della provincia di Ferrara per accelerare la campagna di vaccinazione contro il covid-19, l'azienda USL ha organizzato iniziative analoghe anche a Comacchio, Argenta, Codigoro e Cento da mercoledì 9 a domenica 13 giugno. A disposizione ci saranno 1430 dosi del vaccino monodose Johnson & Johnson così distribuite, 720 dosi a Comacchio, 110 ad Argenta, 300 a Codigoro e 300 a Cento. Le modalità di prenotazione degli open day rimangono le stesse, le persone interessate di età compresa tra i 18 e i 39 anni potranno prenotarsi sul sito dell'azienda USL di Ferrara, cliccando sull'apposito banner già attivo fino a esaurimento delle dosi disponibili. Somministrazioni che si aggiungono al regolare piano vaccinale che prosegue a pieno regime, scaglionato per fasce d'età e alle aperture serali in corso alla Fiera di Ferrara, dove da lunedì 7 a domenica 13 giugno verranno somministrate 250 dosi ogni sera dalle ore 20 alla mezzanotte per un totale di 1.750 dosi. Un potenziamento importante fortemente voluto dall'azienda sanitaria territoriale che ora si estende nei tre distretti sanitari della provincia estense e che con queste ulteriori 1.430 dosi arrivano un totale complessivo di 3.180 inoculazioni. Chi avesse prenotato o dovesse cambiare idea deve inviare un'e-mail con nome, cognome, codice fiscale estremi dell'appuntamento che aveva fissato all'indirizzo info.vaccinazionicovid19.it, la uslafè.it, un indirizzo che però non serve a cambiare l'appuntamento o per chiedere informazioni, ma solo per informare che si vuole disdire la propria prenotazione. Sport adesso ancora, parliamo di basket però, perché la semifinale dei play-off dia 2 è stata ancora amara per il club basket Ferrara, sconfitto ieri per 78 a 75 a Napoli. ferraresi che sono usciti dal pala barbuto fra gli applausi, avendo sfiorato l'impresa della vittoria contro i padroni di casa, ora avanti 2-0 nella serie. Dopo la sconfitta senza storia di domenica scorsa, gara 2 ha dimostrato che i ferraresi possono contendere la serie ai partenopei, ora le partite si spostano a Ferrara, la gara 3 si terrà venerdì prossimo qui al palazzetto di Ferrara. Cambiamo argomento, passiamo a parlare di vertenza celanese, perché in regione è stato raggiunto un accordo per lo stabilimento di via Marconi a Ferrara, salva l'occupazione e il sito produttivo acquisito da un gruppo già operante nel complesso chimico ferrarese, ovvero Benvic, e sono state confermate le condizioni per la nascita di un polo mondiale della chimica a Forlì. A sottoscrivere questo importante accordo in regione c'era anche il sindaco di Ferrara, Alan Fabri, insieme al presidente della regione Bonaccini e all'assessore Vincenzo Colla. Sentiamo. Trovata una soluzione per l'avvertenza celanese di Ferrara, soluzione che salvaguardia in modo pressoché totale l'occupazione, assicura la continuità produttiva del sito ferrarese di via Marconi con una cessione di ramo all'azienda della Benvic e soprattutto crea presupposti e condizioni per la nascita di un polo mondiale della chimica a Forlì, dopo che la multinazionale americana ha confermato la scelta di investire in Emilia-Romagna e concentrarvi l'attività del sito di via Marconi di Ferrara e i due siti che si trovano in Germania. E' questo in sintesi quello che prevede l'accordo sottoscritto in regione che porta ad una soluzione dell'avvertenza. Punto di partenza è la scelta di Celanese Production e Celanese Services di istituire un centro di eccellenza nel sito produttivo di Forlì che rappresenterà un fulco strategico per l'attività per l'intera Europa e si aggiungerà ad altri due centri di eccellenza mondiali in Cina negli Stati Uniti d'America. Saranno messi in campo investimenti nel sito in piazzale Guido Donegani e Ferrara per consolidare e sviluppare le produzioni attraverso non solo l'installazione di una nuova linea di produzione ma anche lo sviluppo dell'applicazione in ambito medicale dei propri prodotti anche attraverso l'installazione di una nuova linea pilota. Dopo un confronto sia sul piano sindacale che istituzionale, Celanese ha trovato nel gruppo Benvich, leader della produzione di soluzioni termoplastiche a base di PVC altamente innovative e biopolimeri ecologici già attivo presso il complesso chimico di Ferrara, la disponibilità ad accogliere con un'accessione di ramo d'azienda il trasferimento di parte del complesso aziendale di Ferrara di via Marconi di Celanese e con esso 33 dipendenti addetti senza alcuna interruzione dei rapporti di lavoro di quello stesso complesso aziendale. Sono invece 23 i lavoratori di Celanese che dal sito di via Marconi andranno a rafforzare il personale del sito di piazzale Donegani sempre a Ferrara, 11 dei quali saranno impiegati nella costituenda unità operativa di Celanese Service nell'ambito del progetto del centro di eccellenza basato a Forlì. Due lavoratori del sito di via Marconi hanno accettato il trasferimento nel nuovo polo. Per cinque lavoratori è stato raggiunto un accordo di soluzione consensuale nel rapporto di lavoro per mancata accettazione del trasferimento. Politica adesso, parliamo del caso dell'azzeramento della commissione urbanistica Ferrara, è molto acceso il dibattito in città, sentiamo. Le commissioni non si fanno e non si disfano a comando e questo certamente l'aggiunto del comune di Ferrara lo sa. Non si stupirà quindi del terremoto politico e mediatico suscitato dalla decisione presa in questi giorni in silenzio in tutta fretta di liquidare la commissione per la qualità architettonica del paesaggio chiedendo le dimissioni dei suoi componenti, cinque professionisti, un ingegnere, un geologo, un geometro, due architetti, nominati poco più di un anno fa sulla base di curriculum selezionati e valutati come adeguati della giunta stessa. Intanto, in attesa della convocazione chiesta ieri da Sonecivica e segretaria del Partito Democratico Comunale e della Commissione Urbanistica per fare luce sulla vicenda, anche la consigliere del gruppo misto, Anna Ferraresi, annuncia oggi di voler monitorare la nomina dei nuovi componenti della commissione. È stato demolito, spiega, un edificio tutelato dal piano urbanistico, con modalità e tempistiche che destano enorme perplessità. Esperti della materia continua dicono anche in violazione dei regolamenti, quindi aggiunge di avere provveduto, insieme a tecnici del settore, dopo un attento studio dei documenti, ad attivare l'autorità di controllo e di vigilanza e la procura di Ferrara, alla quale è stato presentato un esposto dettagliato ed articolato. Il metodo usato, i cittadini ormai lo hanno capito, sembra appartenere a questa giunta di centrodestra, che da un lato ama essere tutti i giorni sulla stampa per le iniziative di promozione della città e di autopromozione, dall'altro mette la sordina o tenta di farlo alle azioni politiche più delicate e potenzialmente controverse, che dovrebbero proprio per questo essere oggetto di confronto trasparente e democratico con le opposizioni, dal punto di vista almeno di una corretta comunicazione con gli elettori. Il silenzio, usato in politiche in genere per paura di perdere il consenso, diventa controproducente quando c'è chi porta alla luce ciò che si voleva passasse in sordina, diventa addirittura una sorta di boomerang per i politici silenti, perché genera sospetti, voci malevoli, dicerie, nelle opposizioni e disorientamento nei cittadini. Sta di fatto che in assenza di motivazioni ufficiali ci si deve accontentare di qualche esternazione anonima. Nella lettera con cui il direttore generale del Comune di Ferrara ha chiesto o preteso le dimissioni date da quattro membri della Commissione, ma non dal suo presidente e dall'architetto Renaldo Campi, che pare abbia chiesto a sua volta chiarimenti e rispetto alle norme, si parla o no di interessi privati in atto pubblico? L'accusa è pesantissima per un professionista come per un politico, se c'è, a chi è rivolta, se non c'è. Quale altra motivazione può avere indotto la Giunta ad annullare una commissione che è alle dirette dipendenza del Sindaco? Quale sarà infine la reazione degli ordini professionali di fronte ad uno smacco di questa portata? E perché decidere di procedere dopo aver impoverito di professionisti il vertice del settore dell'urbanistica e dell'edilizia privata alla eliminazione di una commissione necessaria per il buon andamento dei servizi alla città e che quindi dovrà essere al più presto ricostituita? Ma quale professionista c'è da chiedersi? Avrà voglia di candidarsi per un incarico che, come è stato dato, può essere tolto da un giorno all'altro in modo così oscuro? Giovedì 10 giugno domani alle ore 9.30 nel Palazzo della Racchetta di Ferrara in occasione della quarta edizione del Ferrara Film Corto è in programma un incontro dedicato alle tematiche ambientali per la cura del creato e per la salvaguardia della vita. Interverranno l'arcivescovo di Ferrara e Comacchio, Monsignor Giancarlo Perego e il rabbino capo della comunità ebraica di Ferrara Luciano Meir Caro. L'incontro sarà accompagnato dalle proiezioni di alcuni video sul tema. E adesso parliamo di agriturismi perché sono in difficoltà da un anno e mezzo da questi luoghi molto importanti per il ferrarese. Si vuole ripartire da qui, vuole ripartire il turismo e Coldiretti insieme a Campagna Micca e Terra Nostra hanno organizzato un'importante iniziativa per sabato prossimo dove si andrà in bici tra fiumi e delizie. Di questo e di altro si parlerà questa sera su Telestense e Reventi durante Campagna Micca News che torna con una nuova puntata. Ma sentiamo appunto di che iniziativa si tratta. Stiamo parlando di sabato prossimo. Turismo, ristorazione e agriturismi. Questi tre settori maggiormente colpiti dalla pandemia e sono questi in cui c'è la maggiore voglia di ripartire. Pur tra mille difficoltà nell'ultimo anno e mezzo, ora si vuole andare oltre. È stato un anno particolare, mai successo nella nostra storia penso più recente ma anche meno. Abbiamo subito molto il calo e il vincolo sulla mobilità delle persone, tant'è che appunto abbiamo avuto dei mesi di chiusura che non erano mai successi bene o male, c'erano i weekend che portavano già turismo da fuori, mentre l'anno scorso abbiamo subito proprio in pieno il calo. Colpa anche un po' delle chiusure tra regioni in base ai colori che ci sono state. Quest'anno speriamo che ci sia un po' più di apertura da fuori regione, abbiamo già diverse presentazioni dal Lazio ancora e dalla Lombardia e quindi siamo fiduciosi che si possa riprendere un po' di normalità anche se non sarà al 100%. Sabato 12 giugno si terrà un evento che rappresenta la rinascita di questo settore e col diretti Ferrara insieme a Campagna Amica e Terra Nostra ha organizzato l'iniziativa in bici tra fiume ed elizie. A partire dalle ore 15 si viaggerà lungo il percorso cicloturistico di Campagna Amica. Sarà un sabato particolare fatto apposta per voglia di riscattare un po' il turismo e tutto quello che ci è stato privato prima. Abbiamo pensato di fare un percorso cicloturistico sul territorio prendendo come pretesto due fiumi che sono insediati nelle nostre zone, uno il Sandolo e l'altro il Po di Volano. Seguendo il tracciato un po' di questi fiumi, passiamo per delle delizie estensi, quindi entreremo nel territorio di Voghiera e vedremo a bel riguardo il Verginese, gli scavi che ci sono della necropoli romana di Voghenza. Non sarà solo un percorso diciamo culturale classico, ma entreremo a contatto proprio con delle realtà produttive e agricole del territorio. Il percorso tocca a delle aziende di Campagna Amica, una full immersione in quella che è la cultura e la tradizione anche contadina del nostro territorio. Ma cosa deve fare chi vuole partecipare per renotarsi contattando il numero sulla locandina? Ci saranno anche le autorità e in questo ringraziamo anche la pubblica amministrazione di Ferrara nella figura di Fornasini, assessore al turismo che ha deciso di patrocinare la nostra attività, come anche al sindaco di Voghiera, ben felice perché è cicloturista anche lui, di partecipare a questa iniziativa. Abbiamo avuto la collaborazione di FIAB che ci ha dato uno spunto e ha aiutato a mettere giù il programma e creare i percorsi cicloturistici. Appuntamento quindi questa sera con Campagna Amica News per questi altri argomenti. Ieri in Regione è stato presentato anche un portale ad hoc per il turismo estivo negli agriturismi. Sentiamo. È un comparto significativo per l'economia dell'Emilia-Romagna e ora è pronto a ripartire. È un comparto degli agriturismi che la Regione ha sostenuto con quasi 30 milioni di euro per misure strutturali e ristori negli ultimi mesi. Ma ora, per gli operatori che hanno pagato a caro prezzo le limitazioni dovute alla pandemia, serve un ulteriore passo in avanti sul lato della promozione turistica. Per questo nasce un nuovo portale, affiancato da una campagna di comunicazione dedicata alla molteplicità delle attività e delle offerte legate alle imprese agricole e agrituristiche e non solo nel periodo estivo, dalle bellezze naturalistiche alle eccellenze no gastronomiche, oltre alle esperienze di relax, cultura didattica e gusto che solo la vita rurale sa offrire. Gli agriturismi Emiliano-Romagnoli sono pronti quindi ad accogliere i nuovi turisti italiani e stranieri con proposte di vacanze differenziate ma anche sicure e all'insegna della sostenibilità. Una grande voglia di ripartire, di accogliere tantissime persone, Emiliano-Romagnoli, italiani e anche turisti stranieri. In queste strutture meravigliose sono oltre 1200, le strutture agrituristiche della nostra regione. Nell'agriturismo la terra si incontra con la tavola, quindi è possibile assaggiare direttamente i prodotti agricoli del nostro territorio. Sono luoghi di relax, di sport, di socialità, di cultura che consentono a un turista di entrare in contatto diretto con la natura e con l'ambiente meraviglioso che ci circonda e anche con gli animali. Quindi sono luoghi davvero molto belli, molto importanti da vivere. Noi li abbiamo sostenuti in questi anni attraverso 25 milioni di euro di investimenti del PSR e 3 milioni di euro destinati a dare una mano al sistema agrituristico ad affrontare l'emergenza Covid. Continueremo a farlo, vogliamo farli conoscere, vogliamo attirare persone, utenti e turisti nei nostri agriturismi attraverso anche questo nuovo portale molto semplice e anche molto interattivo che offre tutte le informazioni necessarie. Bene, con questo è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.